Notizia che hai dato, suggerisce moltissime cose Intanto ti voglio dire che in questi giorni viene diffuso, non credo nei grandi schermi, insomma in vari circuiti Un documentario, film, direi proprio un film sulla vita del divino Thelma Cioè sulla vita di Marco Belelli, perché si chiama Marco Belelli Sì sì sì, c'è uno che ha girato, lo sai, girano tante cose Sulla vita, cioè beh, io ti prego però, non... Cioè, stai zitto un attimo, fammi fare una piccola telefonata È uno scandalo Divino, sono Cruciani, come stai? Benissimo, benissimo Senti Divino, ma so che è uscito il tuo coso, il film dedicato alla tua vita sostanzialmente Il film sarà presentato ufficialmente al Torino Film Festival il 26 novembre per la gioia del nostro popolo, certo Molto bene, molto bene Ma gioia di un cazzo di nessuno Pensi un attimo la rabbia di Parenzo, immagini pure la rabbia di Parenzo che non è qui naturalmente Noi non siamo interessati a disfettare sottopastri, ratti, nessimile, triste, genia Ve ne diciamo e vi mandiamo a fare in culo Ma questo sta male No, come ci manda a fare in culo, scusi Ma manda a fare in culo Perché ci manda a fare in culo? Hai mandato a fare in culo, incredibile No, ma si ti ha mandato a fare in culo Ti ha mandato a fare in culo Ma come parlo? Antonio da Genova, dai, forza Antonio, dimmi Dimmi Antonio Grazie a tutti